...e poi si parla di come dei cervelli, il suo è stato di ucciso. Ora fortificato! Oh sì, quanto a fine Giulie? Beh, alla fine Giulie ha detto sì. Sono andati a Parigi per la luna di Mie. Io rispettavo per fargli una sorpresa, ma non mi sembra mai un momento giusto. Sono caricato. Vi assicuro una cosa. Si sono curati molto bene. Siamo a 5 secondi. Siamo a 5 secondi. Italia, 1! La bifo non ha trovato il contenitore di bifo. Dai! Non puoi rimanere, capo! Non puoi rimanere, capo! Non puoi rimanere! Non puoi rimanere! Non puoi rimanere! Non puoi rimanere! Non puoi rimanere, capo! Non puoi rimanere! Guardate voi! Merda! scoprirà ti hanno scoperto l'ultimo saccante rimasto in vita ciao sono Marco Galli e ogni mattina ad esetto accendo il radio e faccio tutto il scambio scoprirà il capitano scoprirà il contendore il nemico ha tirato il colpo di ore di più rischio squadra d'attacco eliminata missione completata scoprirà l'ultimo sacco scoprirà scoprirà alla fine e Mi manco la ragazza. 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 Sul suo conto, infatti, gli archivi e le forze dell'ordine, esistono fascicoli e informazioni. La prima condanna per danneggiamenti, ma Sud l'aveva ricevuta addirittura nel novembre dell'83, a soli 19 anni. Poi, una serie piuttosto consistente di altre condanne per aggressioni, lesioni, possesso reali e reati contro l'ordine. L'ultima volta, in avanti al giudice, c'era finito nel 2003 per il possesso di un coltello. dobbiamo proteggere il contenitore di più inizio. Difendete la stanza. E' un'africago di più iniziare. ho fortificato il muro la posizione contenitore di biorischio è ignota tenetelo al sicuro il nemico ha trovato il contenitore di biorischio l'aria intorno al Parlamento intanto continua sembrava una zona del clima con squadre speciali che continuano a piedi di quadruccia di punti sensibili del capitale che cerca a stento di riprendere la vita in un giorno per noto a quale non abbiamo paura questo l'hashtag che impieggia su social network un moto pronunciato già ieri sera da sindaco Staticano stiamo facendo il punto per riportare la calma a tempo e far tornare la sicurezza per le strade della capitale e io sento un freddo Session Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.